Buongiorno a tutti e benvenuti sul canale Viaggi di Alematti. Questa mattina, dopo aver chiesto il giorno di che hai pagato il biglietto, entriamo all'Ecma. Vorremmo porre la nostra attenzione su tutti, diciamo, ciò che serve al motociclista, il moto viaggiatore, per viaggiare e godersi i viaggi in tutto, in toto. Vediamo profino quello che riusciamo a trovare. Grazie a tutti, seguiteci! Buongiorno a tutti, siamo a Ecma 2024, allo stand di PMAJ. Siamo in compagnia di? Diana. Diana, che ci parlerà un po' delle novità per l'abbigliamento, il moto abbigliamento protettivo, per 2025. 2025, sì. Allora, le novità da uomo sono il modello Dust, che abbiamo con lo strappo in vita per regolare la vestibilità, poi abbiamo inserito le zip laterali con presa d'aria, che è usabile un po' per tutte le stagioni, anche primavera e estate, esatto, con le protezioni che si inseriscono dall'esterno per comodità. Abbiamo inserito la parte, questa qui, elastica, sul ginocchio per un maggior comfort alla guida e quest'anno sarà venduto insieme al pantalone idrorepellente, che sarà inseribile sopra il pantalone con le cinture nastrate e lo strappo in fondo per regolare e chiudere sopra la scarpa. E sarà inserito in un marsupio che andrà attaccato dietro i passanti del jeans, per avere la comodità di non dover aprire la valigia quando si va, per cambiarsi. Certo. Per quanto riguarda l'uomo, per quanto riguarda la donna abbiamo questo cargo, un cargo leggings, esatto, con le tasche laterali, sia con la clip, bottoncino automatico e la tasca. Sempre tutti quanti con le protezioni sulle ginocchia e sui fianchi, tutti quanti anche questo anti abrasione, in cordura, 3-1 secondi e 4-2 secondi questo. Queste sono le novità uomo e donna per il 2025. Poi abbiamo le altre colorazioni, sempre 2025, del modellino Ginevra, in lavaggio chiaro e in lavaggio scuro. Ok. E per quanto riguarda l'uomo invece abbiamo la novità della Vietor, il modello cargo, in nero e in verde militare. Ok. Grazie mille. Prego. Un piacere essere stata con voi. Altrettanto, è un piacere per me. Ciao.